Non tardano ad arrivare le reazioni dei gruppi consigliari vittoriesi sul tema della sicurezza nella frazione marinara dopo la rissa avvenuta a Scoglitti in piazza Cavour tra cinque giovani nella notte tra lunedì e martedì. I ragazzi, quattro italiani ed un marocchino, tutti d'età compresa tra i 19 e i 23 anni, sono conseguentemente alla rissa durante la quale, se le sono date per bene, stati tratti in arresto e a seguito dell'intervento congiunto di polizie e carabinieri che hanno fatto in modo che la situazione non degenerasse, più di quanto non fosse già critica. Quanto accaduto lunedì, notte a Scoglitti, mette sempre più in evidenza quanto sia necessario poter contare su organici consistenti delle forze di polizia. Hanno dichiarato i consiglieri comunali di Riavvia Vittoria, Daniele Barrano, Rosa Maria Mazzone, Agata Iaco e Zettoti Miccoli. È necessaria un'attenzione supplementare ed un incremento notevole in tema di sicurezza. Episodi del genere, infatti, hanno continuato gli esponenti di Riavvia Vittoria, mettono in pericolo non solo i cittadini, ma hanno anche un impatto negativo sulle presenze turistiche e sull'immagine della città, che gradualmente, con non poche difficoltà, si sta cercando di rendere migliore. È fondamentale poter contare su organici di sicurezza che siano sempre pronti e preparati per fronteggiare la situazione e le eventuali emergenze. Le attività di sicurezza devono contemplare ed assicurare sorveglianze e controlli anche negli orari meno consueti e nei loghi di maggiore aggregazione. L'amministrazione comunale deve fare in modo che la polizia locale, congiuntamente alle altre forze dell'ordine territoriali, devono poter garantire interventi diretti qualora si verifichino episodi che possono nuoscere all'incolumità pubblica. I consiglieri di Riavvia Vittoria hanno concluso la nota asserendo che attraverso la deputazione di riferimento intendono sollecitare il Governo nazionale ad intervenire per destinare qualche unità aggiuntiva di sicurezza sul territorio vittoriese. Grazie.